Dunque, parlare di ipnosi vuol dire parlare di un sistema di comunicazione perché, senza che ci rendiamo conto, abbiamo al nostro interno, dentro di noi, una continua comunicazione con noi stessi. Abbiamo quello che chiamiamo il dialogo interno che è quella componente che ci permette di, immagina, di considerare la tua organizzazione mentale come un sistema di voci, immagini e pensieri in fondo. Ecco, quando noi siamo con noi stessi, siamo nella condizione di avere una sorta di autoipnosi, cioè di un dialogo interno, continuo, con noi stessi che ci orienta nella nostra esperienza. Questa modalità con cui noi ci attrezziamo, in fondo, per affrontare la vita è un modo molto semplice col quale noi organizziamo il nostro mondo interno. Quest'idea che ci facciamo di noi stessi, della nostra vita, che possiamo in qualche modo descrivere quando ci concentriamo in modo più preciso su quello che andiamo a fare e a vivere, ci riporta a una logica. Ci riporta quindi al comprendere che per poterci capire, per poterci fare capire dagli altri, noi abbiamo in qualche modo bisogno di identificarci e quindi di generare in noi una sorta di identità. Ecco, queste cose che dico ci riportano un po' al passato. Immaginate che l'evoluzione dell'essere umano abbia portato il bisogno di vivere socialmente con gli altri a un livello tale per cui le persone funzionano meglio se si organizzano dietro delle identità. E quindi noi abbiamo imparato e abbiamo una cultura che ci abitua a considerarci esseri individuali, quindi con una particolare abilità che è l'abilità in qualche modo di riconoscere noi stessi e di favorire questo riconoscimento rispetto a tutto quello che potrei prendere in considerazione e su cui potrei concentrare. Quindi immagina a un certo punto di definire il campo di tua concentrazione parlando di te stesso sulla tua persona. È necessario, se tu vuoi considerare di avere un'identità, avere una sorta di mappa che configuri questa identità. Cosa vuol dire? Avere un confine entro il quale tu stabilisci che sei te stesso e un confine entro il quale oltre al quale vai a definire le due esperienze. Allora, quando tu nomini il tuo nome, nomini la persona che richiama un'identità, nomini un confine della tua identità. Ecco, io insieme ad Arianna abbiamo strutturato una mappa di questo tipo e l'abbiamo definita la mappa dei 5 e 6, considerando che il 6 è una cosa unica ma che è composta di più parti. Perché parliamo di una composizione della nostra esperienza? Perché quando andiamo poi a definire le emozioni, e in particolare ci concentreremo oggi su quella della paura, che è una delle tante emozioni che possiamo vivere, dobbiamo considerare che questa paura è in qualche modo legata a delle nostre esperienze e queste esperienze sono legate a delle nostre memorie e queste memorie sono legate a momenti particolari della nostra vita. E dunque, quello che noi viviamo come sé è una composizione. Siamo abituati alla logica esclusiva. O sono io, o è un'altra persona. Se entriamo dentro di noi, questa logica esclusiva non funziona più. Dentro di noi dobbiamo ragionare con una logica inclusiva. Ci sono io, ma ci sono parti di me che sono cresciute con me. C'è il mio io bambino, c'è il mio io adolescente, c'è il mio io saggio. In un certo senso, c'è il mio io creativo. Ci sono parti diverse di me che si sono, come dire, sviluppate in momenti particolari della mia vita e che hanno lasciato memorie. Io sono ricco delle memorie che porto con me. Queste memorie compongono il mio sé emotivo. Ma questo sé emotivo non può essossistere con le semplici idee che stiamo sviluppando adesso, con i concetti, con i pensieri, con le immagini. Dobbiamo avere un corpo fisico che comporti questa capacità di tenere insieme le cose che poi noi esprimiamo di noi stessi. Quindi il primo sé è sostanzialmente, che precede quello emotivo, è il sé corporeo. Abbiamo un corpo. Questo corpo in qualche modo si allinea alle tue esperienze nel momento che tu memorizzi, porti in memoria dei tuoi vissuti, ed entri in quella dimensione di emozioni. Le emozioni sono una composizione molto particolare perché è un sentire, non è un percepire col corpo e i sensi. Il sentire è una cosa particolarmente elaborata che noi utilizziamo per entrare dentro le nostre esperienze. Le nostre, quindi con le nostre memorie, con i nostri ricordi, le nostre personali esperienze vissute in momenti diversi della nostra vita, quindi con dei sé, o meglio con dell'identità, con delle parti, più semplicemente dette, che compongono la logica che assembla in noi queste esperienze in un'unica identità. Tra le esperienze c'è anche quella della paura, come c'è quella della gioia, del successo, quella dell'apprendere, del riuscire, quella dell'essere in grado. Tutte le sfumature del nostro sentire sono raccolte nel nostro sé emotivo. Ora, immaginate, senti col corpo, ricordi ed evochi le esperienze e i vissuti nelle emozioni, e quindi sono tu e personali, e poi hai bisogno di un elemento che possa mettere insieme queste cose. E nel cinque sé, quello centrale, proprio il terzo elemento, per noi è importante considerarlo come il capire. Il capire è una sorta di autoconsapevolezza o coscienza. Quindi abbiamo un corpo delle emozioni, delle memorie esperienziali, delle nostre esperienze passate, delle parti di noi che compongono la nostra identità, in fondo l'io bambino, l'io adolescente, l'io adulto, l'io saggio, l'io intraprendente, e via dicendo. E abbiamo una parte che chiamiamo il sé autocosciente, che permette a tutti questi sé di collegarsi tra loro. Come vedete, sto usando due mani, perché lo stesso mondo che sto riscrivendovi a livello di consapevolezza esiste pari pari nella sua parte inconscia. Quindi c'è un mondo di sé, di cinque sé inconsci, che dialoga strettamente, che collabora strettamente con le parti di cui noi siamo coscienti. Questa parte inconscia è molto più ampia ancora di quella di cui abbiamo consapevolezza. Il quarto sé poi rimane un sé relazionale. Immaginate che quando io ho capito di avere esperienze, di essere stato, di essere, quindi collocandomi nel tempo, di avere la capacità di raccontarmi una storia che riguarda la mia vita e di mettere in gioco le mie percezioni, me stesso con il corpo, le emozioni che sento e il mio capire, Allora immaginate che tutto questo si permette di affacciarsi al mondo, quindi di creare relazioni col mondo e con gli altri. Soprattutto quelle con gli altri sono le relazioni più complesse che possiamo vivere, perché gli altri sono un come noi, diverso da noi. Li riconosciamo simili a noi gli altri, ma anche diversi. E' un continuo muoversi in questa dimensione, molto vaga, poco precisa come ricordi, ma essenzialmente quello che compone la nostra identità, la nostra capacità di essere. Perché l'identità non è altro che un definirci, un descriverci e un viverci nella nostra storia, attraverso percezioni, sensazioni, attraverso relazioni. Ultimo, non ultimo, il passo che stiamo in qualche modo per fare è un passo particolare, che in poche parole non si può sintetizzare, ma vi dico solo che appartiene alla sfera del sacro. Il sé spirituale appartiene al sacro. Nella misura in cui il sacro non è altro, immaginate, tutto ciò che non è quotidiano. Nella stessa idea che, se io vi dico la realtà, la realtà non è quella, per esempio, che ho alle spalle. Se io guardo un quadro, se io guardo una fotografia, se io guardo un mobile, un muro, io vedo qualcosa di particolare, del reale. Quindi non è la realtà questa, è il quadro, il mobile, io, la mia voce, le parti di me che si compongono nella mia idea, nella mia storia. Tutti noi abbiamo una nostra storia che è fatta di queste parti che in qualche modo sono l'insieme. Ma il reale, la realtà, non è il quadro. Il quadro è il quadro. E dunque immagina dentro di te che tu sei te stesso, ma poi ognuna delle parti di te non è un te stesso, è quella parte specifica che vuole in qualche modo far parte di te. Vuole, è necessitata, ha bisogno di far parte di te, in base proprio al concetto che vivi le memorie che porti con te e vivi le memorie di te. Le tue memorie sono il tuo vivere. Ora, questo primo corollaio e di prima mappa che abbiamo creato ci avvicina all'idea che quello che vi sto dicendo e quello che voi pensate di voi stessi è, come dire, suggerito da quelle che noi chiamiamo logiche o ragionamenti, pensieri. Ora, la logica a cui noi siamo abituati maggiormente è la logica causale, causa-effetto, dove è molto bello se riesci a comporre la realtà di una causa e di un effetto. La mela è buona e me la mangio. La cosa interessante della logica, però, è che alle volte la logica non è precisa, ma è sfumata. Immagina che io mi sto mangiando una mela. Questa mela, mano a mano che porto via dei morsi di mela, rimane una mela? È una domanda particolare. Quando è che finisce di essere una mela una mela? Cioè, quando è che arrivo al torsolo che poi non mangio più e dunque non considero più mela, anche se una parte della mela ha tutti gli effetti? Ecco, la logica sfumata è l'idea che non c'è qualcosa di particolarmente significativo che mi dica stai nella mela fino a dieci morsi, dopodiché passi ad avere un torsolo. Non c'è questa logica nella realtà dei fatti e della nostra identità. È tutto sfumato. Quindi, in questa logica di continuum, immaginate che c'è l'ipnosi. E nell'ipnosi immaginate la paura come vostro sentimento, come una forma di autoipnosi. Cioè, io mi sono ipnotizzato seguendo un canovaccio che in qualche modo ha generato un sentimento che ho chiamato paura. E io, quando parto con la paura, sviluppo questo sentimento, cioè rivedo questo film. Uso il concetto di film perché è semplice. Immaginate un insieme di fotogrammi che si sono uniti in una logica sfumata. Cosa vuol dire? Che tutto puoi chiamarlo paura, ma poi che in effetti la paura è composta di singoli morsi. E che la paura sfuma, cambia, si modifica. Noi usiamo sempre lo stesso concetto. Sto mangiando una mela anche quando sei all'ultimo morso. Ma in verità, l'ultimo morso è un pezzetto piccolo della mela, veramente una parte piccola, piccola, piccola. Ma la chiamo ancora paura. La chiamo ancora con posizione intera, la mela. Quindi la paura non è qualcosa di unico. Anche se a me appare per semplicità così. La identifico come una cosa unica. In verità, è un insieme sfumato di parti diverse le quali somme fanno l'idea o la sensazione di paura. Vi racconto questo perché perché con questa mappa potete intuire con semplicità che la paura si monta e si smonta. La montiamo o l'abbiamo montata senza rendercene conto e ora fa parte di noi, ma poi la possiamo smontare perché come è stata montata la possiamo anche smontare. L'ipnosi ci aiuta a renderci conto di come montiamo le esperienze in noi e di come le possiamo smontare e riconfezionare. Perché nella logica sfumata io posso trasformare una mela in una composizione, in una marmellata, dove nella marmellata ci metto altre componenti e proprio perché ci metto altre componenti diventa un'ottima marmellata e il sentimento di paura posso trasformarlo in un sentimento di curiosità, di interesse, di ansia cognitiva per esempio. L'ansia cognitiva viene definita quell'ansia positiva, cioè che accende il tuo interesse, accende il tuo cervello perché poi l'interesse lo sviluppi nel tuo cervello, ma non solo quello che c'è qui, anche quello che abbiamo giù nella nostra pancia, accende l'interesse anche del terzo cervello che è il nostro cuore, accende tutta la nostra persona, tutto il nostro corpo, percepisce quello che viviamo e questo nelle emozioni diventa la memoria di cosa sei e di come sei e di chi sei in fondo. Queste memorie che compongono la tua persona sono gli elementi che compongono la marmellata. Tu hai l'idea della marmellata di mela, ma in verità dentro ci sono tante composizioni diverse, c'è lo zucchero, c'è un trattamento, perché la mela è stata in qualche modo trattata col calore insieme per creare nella marmellata quella composizione che proprio il calore ha permesso di generare e di favorire. questa dimensione sfumata, c'è la mela, ma c'è anche altro, quindi la mela è una composizione sfumata nella sua marmellata. Ecco, questi esempi che forse sono più per il mondo femminile, perché ho visto che la maggioranza di voi è fatta di donne, io cerco di tradurre la logica maschile, così magari dettagliata, in esempi, uno perché ne ho bisogno io, che sono molto più femminile nella composizione delle mie idee di quanto non sono gli uomini di genere, perché mi interesso delle cose che interessano a voi, sono qui con voi, non per nulla. E due perché appunto parlando di comunicazione si parla proprio di modo di parlare e parlarci, ed è bello o interessante considerare che le composizioni del nostro modo di parlare sono la marmellata dell'idea che facciamo delle cose di noi stessi e degli altri. Queste marmellate sono sfumate, sono composizioni e-e, non-o-o, anche se noi spesso le dividiamo con buoni e cattivi. I buoni e i cattivi sono un tutt'uno nella misura in cui se non ci sono i buoni non puoi capire quali sono i cattivi, non c'è confine e per i buoni e per i cattivi c'è un confine sfumato, un confine particolare, tanto che poi arrivi a dire giustamente quando ti interessi per esempio di relazioni d'aiuto, cioè quando vuoi aiutare te stesso per primo ma soprattutto poi gli altri perché è molto bello e facile vedere negli altri i problemi quando invece in te è più difficile perché sei parte del problema giustamente. Allora quando tu vai a aiutare qualcuno è molto importante considerare che quel qualcuno che vai a vedere non è necessariamente quello che hai già in testa perché altrimenti che serve ascoltare? Sei già quello che ho in testa ce l'ho già in testa. Se io so già chi sei io chiudo i volumi non ascolto più io chiudo le visioni non vedo più perché vedo solo più l'immagine che mi sono creato dentro di me. Questa è una forma di autoipnosi autoindotta mentre ci sono forme di ipnosi cioè comunicazione e relazione col mondo con gli altri definizione di un campo percettivo definizione di memorie definizione di comprensione una logica col quale metto insieme queste cose che compongono questa dimensione sacra che è la nostra realtà interiore che dato che non è quotidiana questi discorsi li facciamo qui in questo convegno qualcuno se le porta dietro per un po' ma non è un discorso che si fa quotidianamente quindi appartiene all'immagine sacra per questa ragione beh questa composizione in qualche modo è quello che tu puoi andare a registrare modificare cambiare utilizzando in modo semplice perché no un dialogo con te stesso ma un dialogo mirato dove pensi proprio di essere capace di gestire attraverso queste parole questi pensieri queste immagini questo tuo qualcuno ha un'identità che si sta aprendo a livello auditivo e questa composizione in fondo che tu eserciti su di te con l'ipnosi è possibile gestirla e viverla e viverla e quindi quando tu hai fatto questo lavoro e hai compreso un po' di mappe un po' di logica un po' di dinamica se ti metti in questo processo ti accorgi che si possono fare veramente tante cose era ed è mia intenzione farvi degli esempi di questa esperienza perché sostanzialmente gli esempi aiutano a comprendere e a capire e quindi quello che io vi ho detto a parole posso condividendolo con qualcuno di voi che vuole esercitare un'esperienza con me è focalizzarmi su determinate cose quindi io continuo a parlare ma se qualcuno di voi vuole agganciarsi al discorso con me allora si faccia avanti e in questo modo traduciamo questi concetti in qualcosa di pratico e di sensibile cosa vuol dire sensibile vuol dire qualcosa a cui noi riusciamo in qualche modo a dare una risposta ad entrare in merito quindi se qualcuno mi introduco se qualcuno vuole lavorare su una paura o una o più paure ecco con l'ipnosi può farsi avanti quindi diteci vi diamo un secondo per pensarci ditemi se c'è qualcuno che vuole lavorare sulle paure con Marco in caso contrario Marco se nessuno si fa avanti scrivete in chat dunque Camilla aspetta Camilla vuoi lavorare sulle paure o hai solo salutato due minuti ah sì ok hai 20 minuti Marco sì sì lo so guarda l'orologio sì sì ah non va il microfono e beh mi spiace purtroppo non posso aiutarvi sul microfono c'è qualcun altro che vuole lavorare sulle paure io se è possibile va bene ok Manuela allora ok ok a posto ora siete tutti e due ok bene io vedo sempre tutto il pannello perché sono su un computer diverso ma mi concentro su su quelli che che servono se no puoi mettere vista oratore non so Marco eh sì infatti cercavo di oppure video appuntato appunti Manuela andando sul suo nome sui sui in alto ci sono tre puntini ora no mi appare sempre la tua icona ma non importa va bene lo stesso io vedo quella più piccola è ok ti vedo ok bene allora prima di tutto dobbiamo definire quello che è il campo di intervento cioè dove voglio lavorare in fondo quindi e quindi in questo caso in questo caso la rivolta a te dove vuoi lavorare cioè cosa vuoi cosa porti in ballo ecco cosa mi racconti di sintesi di sintesi di quello che tu vuoi imprendere in considerazione che mi possa aiutare a darti qualche suggerimento in merito perché qui siamo col tempo limitato quindi io farò in qualche modo che posso ma suggerimenti allora la cosa più mi senti mi vedi sì ti vedo e ti sento sì non so vai tutto fuori dalla mia portata ma ok la cosa principale quando hai chiesto appunto di poter lavorare sulle paure che mi è venuta in mente in questo periodo è l'affrontare i viaggi la paura di viaggiare esatto che non hai mai avuto che non ho mai avuto quindi è una novità esatto è emersa negli ultimi sei mesi otto mesi è una cosa un po' quanti anni hai? 54 54 ok no ti chiedo gli anni non perché ma è importante stabilire perché tu ad esempio dimostri meno anni ma allora io vado poi a cercare le cose in un mondo mentre è più utile considerarle in un altro ok in questo mondo naturalmente se io faccio domande che non vuoi rispondere non rispondere no no tranquilla sono consapevole di tutto ecco ti devo chiedere anche questo quindi hai già superato la menopausa o sì sì sono sì sì sono in menopausa da cinque anni avevo intuito ma volevo la la certezza perché cambiano molto le composizioni interiori nostre quando in qualche modo maturiamo dei cambiamenti biologici poi anche no molto bene ecco la prima cosa che mi viene da pensare è che ti aiuto a considerare poi andiamo avanti eh perché ci sono tante strade per affrontare una situazione ma la prima cosa intuitiva che ti dico è che è normale quello che ti sta succedendo o meglio immagina che tu eri forte e viaggiavi questa forza idea di te e si è mantenuta anche dopo che la forza è venuta a diminuire ma che cosa succede che noi non è che aggiorniamo costantemente come in un immagina di guardarti allo specchio non è che tutti i giorni tu vedi come cambi se tu metti una foto e la riguardi dopo dieci anni di te capisci cosa è cambiato in te ma il quotidiano non ci aiuta a capire i nostri cambiamenti noi ci consideriamo sempre come come ci pensiamo in un fondo la nostra autoipnosi dell'immagine di noi stessi è una sorta di registrazione che va da sé ma il tuo corpo non è più all'altezza della portata di quando tu viaggiavi con tanta energia chiamiamo energia adesso ne è molta meno ed è un'energia più dedicata ora questa logica sfumata che ti sto suggerendo impatta su di noi in un modo fortissimo te lo dico per esperienza personale e comunque dei miei clienti e pazienti a una certa età non ci rendiamo conto che possono scattare delle paure ma non sono vere e proprie paure sono una sorta di ridimensionamento delle energie che avevo a disposizione e che adesso non ne ho più tante così ma viene tradotto in sentimento di paura perché probabilmente perché le paure evocano momenti in cui io non avevo gli attrezzi per immaginate il bambino la bambina che sei stata quando non avevi gli elementi che avevi che hai avuto poi nell'adolescenza nella vita adulta che ti davano quella forza di tenere contenere le situazioni ecco che si sviluppa un sentimento di leggera insicurezza che noi traduciamo come paura perché perché come dicevo prima le famiglie si accorpano e in un'unica identità vedo una composizione ma è una marmellata è una marmellata di cose detto questo ti chiedo se tu dovessi continuare a dirmi gli elementi che secondo te per la tua esperienza ti hanno suggerito che stai vivendo questo momento di timore paura verso il viaggiare cosa aggiungeresti ancora? Aggiungerei per naturalmente conoscenze consapevolezza dei gravissimi incidenti stradali da parte della mia famiglia dei miei rami familiari mortali che ti vengono in mente giustamente o ingiustamente ma ti vengono in mente e alimentano questo fuoco esatto ovviamente aggiungerei il fatto che questo hai aggiunto un'altra componente prima era l'età adesso è la componente delle memorie esatto che sono tante perché sono tante le esperienze è indubbio che tu hai tante esperienze anche positive ma l'indebolimento iniziale fa accedere alle memorie più collegate a questo indebolimento a questa insicurezza e quindi le memorie che hai appena detto sono logicamente costruite perché sono collegate un po' a quell'insicurezza che vivi ok prosegui pure altra cosa che penso spesso è che ho viaggiato talmente tanto sono andata ovunque con la mia macchina guidando io e facendo mille cose che oggi nel momento in cui oggi in questo periodo nel momento in cui decido di dover fare un viaggio mi assale la stanchezza dico no cavoli devo ancora fare questo viaggio è un'altra cosa interessante che ci stai suggerendo la tua esperienza è molto ricca e quindi ci aiuta a considerare tu hai un grande bagaglio di esperienze nell'esperienza del viaggiare quindi è come dire un computer per usare una metafora tra le tante che si è riempito di tante informazioni e che quando lo avvii è lentissimo perché ha proprio tanto da elaborare e quindi c'è un grande dispendio energetico perché devi tenere tutte queste luci accese tanta energia prima era una luce sola o poche perché tu andavi dietro alla conoscenza adesso che hai tantissime luci accese perché ne hai tante conoscenze fatte col viaggiare potrei dirti beh forse è un momento di chiudere gli occhi e di entrare a viaggiare un po' dentro di te per mettere ordine e anche favorire questo momento particolare immagini in questo momento chiudendo gli occhi di trovarti in un nuovo equilibrio e nel tuo equilibrio con questo respiro che hai già fatto con te stessa che ci aiuta a entrare meglio dentro di noi considera quello che ti ho detto ma con le tue giuste esperienze sono tante le cose che hai fatto quando tu avevi tanta energia avevi tanto da spendere ora stai economizzando trattenendoti e in qualche modo ti metti in gioco solo quando ne vale veramente la pena e hai tanti ricordi tante memorie tanti vissuti e tante conoscenze ed è bello galleggiare in queste conoscenze quando queste sono belle e positive non è vero? quando richiamano in te un senso di forza che puoi recuperare nell'idea che qualunque cosa vai a affrontare sei importante e la vuoi veramente allora sarai in grado di concentrarti solo più sulle cose importanti e significative lasciando ai confini di questa tua esperienza dentro di te tutto il resto ora può sembrarti un po' impegnativo quello che ti sto dicendo ma immagina di non essere sola dentro di te e nel chiudere gli occhi o nell'aprirli come meglio credi anche tenendoli aperti sai di poter avere vicino qualcuno io lo posso anche intravedere immaginare è il tuo inconscio è una parte di te ma allo stesso tempo è una parte oltre a te è una parte di te perché insieme siete un tutt'uno ma la puoi vedere o sentire come un'altra parte di te la parte saggia abbiamo detto la parte beh matura la parte con tante esperienze la parte che conosce le cose importanti ora se tu immagina di poter viaggiare prima di tutto col tuo inconscio cioè facendo un riferimento interno a te vedi che puoi andarti a concentrare solo sulle cose più importanti o meglio che il tuo inconscio mette a fuoco per te ora facendo così fai un bel respiro e continua un po' la storia che mi stavi raccontando che cosa ti viene in mente ora immaginando che anche il tuo inconscio con te ti aiuta a focalizzare meglio questo quadro che mi hai fatto inizialmente che cosa succede se lo guardi con occhi diversi intanto stai prendendo una posizione diversa questo è già è già tanto è come se ti fossi tolto un po' un peso dalle spalle no? si sembrerebbe perché ti sei già tirata più su questo è simbolico ma è molto significativo ok? lo senti questo lo sento lo sento lo stai sentendo infatti hai già qualcosa in più è qualcosa di diverso questa è ipnosi autoipnosi perché io ho fatto pochissima hai fatto molto te con le tue esperienze vedendole e raggruppandole in modo differente quindi cosa ti senti di dire ora? ho una sensazione quasi per magia quasi per magia ho una sensazione bellissima che è quella di aver fatto spazio dentro e di avere ottimo e di avere più energia spazio vuol dire spazio vuol dire sì perché il tempo è vita vita è energia quindi è parte di te ottima intuizione ecco parlo di intuizione non più ragione sei partita con la ragione ma siamo sfumati nel mondo dell'inconscio sfumati perché la mela è intera ma se la mangio quando è che diventa inconscio il mio conscio parlando dell'inconscio io entro senza rendermene conto è una dimensione sfumata ma tu hai trovato già un'intuizione basta mettere un po' a posto le cose che già si crea spazio poi puoi anche decidere che qualche cosa puoi buttarla via non è vero? lo sai bene quando fai spazio alle volte ci sono doppioni cose inutili cose che ti fanno rallentare le intuizioni che invece sono molto rapide l'hai visto in 4 e 4 8 hai cambiato postura e questo è quello che fa il nostro inconscio per noi beh poi se gli danno un nome o se non gliel'hai già dato dandogli un nome questo diventa molto più presente dare un nome alle cose usare il verbo per costruire con le parole fare le cose con le parole in fondo ottimo cos'altro senti o ti viene da dire di questa esperienza? questa è una bellissima sensazione la voglia del nuovo del nuovo ottimo e hai recuperato la curiosità che era quella che ti muoveva a viaggiare allora tu sai che ci sono due mondi nuovi uno quello che puoi ancora visitare fuori perché il mondo esterno è quasi infinito ma c'è un altro infinito che riguarda il tuo inconscio e il tuo mondo interiore affinando il quale tu puoi mettere ordine nelle tue esperienze che è il nostro passato per gestire nel presente le nostre esperienze curiosità del futuro la voglia di nuovo esatto è un'ottima sensazione grazie a te è stata una bellissima esperienza è stato molto chiaro ma sei stata l'esempio migliore che potevamo portare perché come dire le avevi tutte lì le cose le abbiamo solo tirate fuori e questa è la sensazione che è giusto che ci dia l'ipnosi perché l'ipnosi è sempre un'autoipnosi esatto sì ho parlato io ma tu hai parlato con la tua voce interna assecondando l'esperienza sul tuo vissuto quindi facendo la tua perché se non succede questo l'ipnosi non funziona infatti noi siamo molto difesi dal nostro io interiore che è il nostro inconscio perché non è che lascia che qualunque voce che io sento mi influenzi ma quando voglio che questo lo faccia lo faccio e tu hai fatto questo hai auto perpetuato in te un senso simpaticissimo di mettere ordine e poi di cercare nuovo perché adesso hai spazio e lo puoi fare esatto grazie infinite ecco sì ho voluto essere breve come vi ho detto ma beh l'esempio di Emanuella è stato molto chiaro perché lei aveva già queste cose nella sua mente aveva probabilmente questo senso di saturazione che ci mette confusione le confusioni spesso sono associate a sensazioni di paura perché perché la confusione è qualcosa che non mi dà stabilità mi dà instabilità e l'instabilità è uno degli elementi che compongono la marmellata della paura quindi immaginate che la paura non è una cosa unica è una composizione molto personalizzata in base ai nostri vissuti alle nostre memorie e la dobbiamo affrontare coi sensi e lei ha cominciato a mettere ordine ed è proprio quello che ha fatto proprio fisicamente ha immaginato di spostare le cose nella sua mente di fare ordine fare spazio ma seconda battuta anche a capire il capire che c'è del nuovo da poter in qualche modo reintrodurre in me in una formula diversa l'inconscio che in qualche modo ti ha dato subito la sensazione di leggerezza che hai vissuto è quello che noi ci aspettiamo giustamente quando lo evochiamo che ci dia un messaggio alle volte non arriva rapido come è stato per te grazie a tutti Grazie a tutti.